Il servizio di prevenzione e repressione dei reati sono stati messi in atto dalla compagnia dei carabinieri di Andrea nel corso del ponte di Halloween in occasione della festività del 1 novembre su tutto il territorio di Andrea, Minervino, Murge e Spinazzola. E proprio a Spinazzola a finire in manette su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato un andriese 47enne a cui i militari hanno notificato un provvedimento custodiale presso la Rems del posto in quanto condannato per reati contro il patrimonio. E ancora tra Andrea e Minervino, Murge sono state individuate 11 persone appartenenti alla fascia di età compresa fra i 16 e i 30 anni nell'atto di consumare o detenere modici quantitativi di droga. I soggetti sono stati segnalati alla prefettura della BAT come assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrati complessivamente circa 10 grammi di hashish e 5 grammi tra marijuana e cocaina. In occasione dei controlli sono stati organizzati ed eseguiti posti di controlli in prossimità dei principali luoghi di aggregazione sulle principali arterie stradali del comune federiciano. Intensificata anche l'attenzione su persone pregiudicate, in particolare su quelle sottoposto al regime degli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.